madre sempre molto a volume basso vero ok allora negozio 8 pacchetti così assisti alla merda assoluta tra cui ci sono anche premi delle rivals allora partiamo da 78 più sta a vedere oro prime oro prime mamma fred bella bella merda esatto pacchetto scureggia questo è la definizione più corretta che ci possa essere premi un maxi ventanculo boh dai poteva andare peggio amsic 282 più sta a vedere 282 spaccati becco oh l'ha detto eh l'ho detto l'ho detto paulista 82 ho detto 282 ed è anche doppione c'è te pensa spaccarsi il culo nelle rivals per ottenere questo che bella la mafia oro prime aspetta aspetta ora fai di peggio non ti preoccupa emre cane dio tutti i pacchetti scureggia incredibile con i crediti che ho potrei comprare vlaovic team of the week 86 o immobile 87 ci farei mezzo pensierino comunque io penserei al fatto che tu devi smettere di comprare subito non appena hai un po' di crediti e fartene di più vero anche quello oh sto qua corricchia eh tanto non è scambiabile eh l'avrei venduto un pochino però vabbè un pacchetto contratto ok quindi devo aprire un pacchetto in più per un pacchetto contratto ok giuramento negozio contratti misti mamma mia grazie un altro max 26 fammi un po' ridere per favore questo è sarà un 81 tipo una merda oh chiudiamo un bellezza beh insomma cazzo buono questo è buono questo è buono questo è molto buono io lo metterei anche in squadra jasmin kurtic è il posto di quella pippa di werner ok bene ultimate team finisce qui finalmente niente oddio c'ho tutta downgradata no beh tu c'hai difesa downgradata ok direi che con le maglie non abbiamo soluzioni ma lo sai che questa maglia qua a me è ghiotta davvero a me mi verba un casino non devo essere sincero è carina a volte ma io non me l'aspettavo c'ho terracciano in porta dodò milenkovich quarta biraghi di marco vabbè dai c'è sto icone qua a me e gonzalez giurgo schi giurgo schi sta a vedere che merda che viene fuori non schippare eh non schippare buonasera dall'artemio franchi di firenze questa è fiorentina inter guarda la grafica della serie A che figa che è oggi ragazzi faremo un pronostico ma se volete il pronostico originale aspetteremo la fine della partita perché tanto finisce 7 a 6 una cosa così appunto ma prevedo che mi prenderai a scoppola in faccia perché non credo affatto di vincere quello che non succederà nella realtà perché io ho già un bene in mente un risultato per questa partita chissà perché la tua vittoria no non hai capito ho appena detto il contrario ma dicono la realtà eh no questa è una partita da pareggio noi non la vinciamo ma guarda che la Fiorentina sta pegando cazzi in culo da tutti eh è proprio per questo vabbè vediamo arriviamo noi e li regaliamo un punticino mamma mia che che lentume che è sta squadra madonna raga pare di giocare con gli elfi oh che cazzo la stoppi che cazzo che cazzo è un anamiracolo proprio lui incredibile no ma tanto la vinci se tu che l'Inter vaffanculo gol dell'Inter Mkhitaryan proprio lui vabbè bella azione vabbè non ci sarebbe niente di strano eh che Mkhitaryan ancora così lo è vabbè ma Mkhitaryan ha un po' di che lento beh ma ehi si ciao se vedemo qua me bravo Nana tu si che esci dai che chi va piano va sano e va lontano come no Terracciano stupralo parti Cristian qua me bella al centro ma devrai del cazzo ah mi hai accostato cosa cioè quando la CPU ti fa da solo queste cose però no no sono un grandissimo coglione oh cosa pulito ma pulito cosa mi hai rotto muori ho un po' tra te sappilo faccio slalom tra le bici come in tre aiuto e non c'è nessuno non c'è nessuno e la para la para ma cos'è che è che vuole il pazzo vabbè no vabbè qua qua l'ho ammazzato ops nessun rimorso niente zero che volevo dire ho sbagliato parola nessun rancore solo dolori ma l'ha passato un anno un anno è proprio lui vabbè ci meritiamo il pareggio ci meritiamo il pareggio ci meritiamo il pareggio dai questa sarà la partita probabilmente l'Inter andrà in vantaggio forse poi la Fiorentina attaccherà un po' noi ci salveremo e segnerà il pareggio con un'azione di merda sai che prevedo l'esatto contrario di quello che sta succedendo adesso che andrà in vantaggio la Fiore e poi segneremo noi sì esatto vabbè cambierebbe poco comunque oddio non ci credo non me lo sto no no sono un coglione sono un coglione no no che mi sono mangiato ma che cazzo di capelli sono ma c'è un tumore ma c'è un tumore eh ma c'è un tumore con quei capelli lì ma fermateli quelli della IA sono veramente dei pezzenti hanno fatto i capelli fanno i giocatori appunto cioè fanno dei capelli Barak parte lo stesso no ti immagini tipo Barak parte lo stesso 8 tiri a 5 se hai dato tiri 0 gol è veramente una vergogna chi posso mettere nessuno ok io ho delle idee ben precise vuoi metto Cabral forse fresche via li do fiducia per ora metto solo Lukaku ma per me Lukaku non lo farà mai entrare alla fine del primo tempo secondo me no a parte della panchina anzi vabbè sì ci sto capito però ma non è che posso prendere tutta la lettera non ho mica non c'è scritto meteorologo c'è scritto meteorologo vabbè niente ragazzi non entra ma è un bug quel po' una ragazzi è una bestia io comunque ma te hai messo l'opzione tipo come si chiama l'opzione della realtà non ho messo un cazzo io no ma perché ho visto che screener qua è da un gredato perché non sta giocando proprio al suo meglio l'aggiornamento live ha messo è esatto quello intendevo ma perché c'è non mi ricordo cosa volevo dire perché non mi ricordo il tuo discorso aiuto tua madre ero non così ah ecco io volevo dire io non riesco a giocare con questa modalità di gioco veramente sono veramente degli spaventapasseri l'ha visto eh ma c'hai piedi a banana aspetta 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 mamma mia no fermo zi stavi per fare un gol con il mio dual chic sì dual chic di sconnesso fra mi sarà scaricato il joystick cioè mi sarei gazzato da morire te lo giuro no fra eh lo so che non lo sapevi però mi sei scaricato il joystick e stavi facendo tutto te praticamente no no se lo ammonisci sei una merda vai il centale l'ha ammonito mi tocca cambiarlo è pazzo vabbè mi farebbe solo un favore al fantacalcio mamma mia guarda che il gold un freeze cambi questo questo è registrato non ti preoccupare no ma la distanza voglio sapere la dice col powershot la distanza ma solitamente la diceva anche con altri comunque da esterno così mamma mia è immeritatissimo meritatissimo hai fatto tutti i ripi di me Adri via ma li ho fatti tutti da un metro è questo il problema io preferisco tirare da lontano quindi vai in mezzo vai in mezzo coprilo coprilo copri l'idiota adesso mi fa far goal adesso adesso mi fa far goal grande grande segnassi anche nella realtà mi farebbe un favore insomma non so quanto te lo farebbe segnassi domani anche perché è importante perché se devo vincere con Maranzagnolo così lo stacco Gabriel fuori gioco di cosa sinceramente bella la cacca la cacca la cacca che goal del cazzo è bellissimo ma che goal del cazzo è dai che goal del cazzo te l'ho buttata lì di testa bellissima l'azione e bellissimo il goal suca se lo facevo io con Gabriel questo qua finiva lo andavano a raccarta agli uffizi il pallone non posso bella ah beh che l'intervincia la cacca dai ma non così dai non me lo merito non me lo merito non me lo merito vabbè c'è una grossa distanza di valutazione squadra eh per carità meno male direi cioè cazzo sarebbe un problema e allora è la messa bella barellino via giù via giù niente non ho chiaro oh ma quando tammi tutti te aiuto via oh uno forse due ma dai Cristo di Dio non c'è tutti due c'è tutta la difesa morita io devo imparare a tirare le punizioni perché veramente non ci siamo la fa uscita mamma mia che roba oh però si è guadagnata allora 4-1 come risultato ci potrebbe sta 5-9 sì certo no vabbè per come sta andando l'Inter ci potrebbe sta sì come sta andando l'Inter però sono sempre poche partite aiuto e vaffanculo vabbè meglio tardi che mai vabbè dai come risultato secondo me ci sta se fai la differenza 2-0 3-1 4-2 secondo me l'Inter ce la può fare sì non vincerà allora te lo dico io questa partita finisce 1-1 secondo me o 1-2 se proprio impazziamo lo so che ti stai toccando le pali in maniera veramente atroce ma secondo me finisce così